ciao a tutti benvenuti sul mio canale sid sul tubo perché io mi chiamo sidney e in particolare sulla mia rubrica russaliana punti russi di un'italiana in cui racconto un po della russia vista dal mio punto di vista cioè dal punto di vista di una persona italiana che ci vive da quasi 12 anni tra pochi giorni saranno 12 anni che vive russia e benvenuti anche sul nostro nuovo formato podcast in cui discutiamo con mio marito toshio di varie cose relative alla russia e alla russia nel rapporto con l'italia se non l'hai ancora fatto iscriviti a questo canale accendi le notifiche e magari se alla fine di questo video o se l'avrai ascoltato insomma se ti piace metti un mi piace oggi puoi sorridere comunque non fa male che i russi non ridono mai lui è un tipico russo vero sei un tipico russo yes comrade oggi abbiamo deciso di parlare di un argomento molto molto popolare cioè delle relazioni in particolare le relazioni romantiche tra in particolare le relazioni romantiche tra uomini e donne anche perché io non posso parlare di altri tipi di relazioni perché non ne ho mai avute e relazioni romantiche tra russi russe e italiani italiane per fare ciò ci siamo preparati alcune domande che vogliamo fare l'uno all'altra in quanto noi diciamo non siamo proprio una coppia tipica tra tutte le coppie miste cioè normalmente sono a me tutti mi dicono ma normalmente sono le russe che si sposano gli italiani oppure è ma tu italiana così bella solare che cosa ci fai con un russo e quindi abbiamo preparato alcune domande vuoi dire a facciamo prima un disclaimer sto facendo tutto io facciamo prima un disclaimer in questo video ci saranno delle generalizzazioni e molti stereotipi nel senso cioè non è che abbiamo studiato le statistiche e non è che conosciamo ogni singolo caso e noi stessi non siamo in un caso tipico quindi molte cose che diciamo saranno dettate dalla nostra esperienza personale e ovviamente da alcuni stereotipi perché cioè non facciamo anche quando vogliamo dire ah no io non so io non sono razzista io no non per generalizzare ma sì c'è la tendenza in tutti a generalizzare e a credere in degli stereotipi purtroppo noi tendiamo a vedere il mondo così quindi disclaimer ci saranno delle generalizzazioni non sono razzista ma vuoi dire qualcosa prima di cominciare con le domande a proposito dell'argomento che tratteremo beh io non non menzionerò dei dei nomi sì a buon normale cioè o che ne frega loro tu con chi ti sei fatto le tue storie e magari ci sarà qualcuno che che ascolta e poi dice ah ma sono io ah fatti tuoi sì no 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 non siete voi non siete voi ah vabbè ok no vedi cominciamo cominciamo secondo te prima domanda secondo te perché nel mondo occidentale e in particolare in italia perché ci stiamo rivolgendo a un pubblico italiano le donne russe o dell'est europeo ex sovietico sono così popolari è una buona domanda non ci ho mai pensato la spiegazione più semplice sarebbe ci sono più bionde e quindi e quindi sì beh le bionde sono più sono più rare magari sì beh io io senti ci sono ci sono degli uomini che sono proprio ossessionati dalle bionde io io no ma che fetis c'è e non so è una preferenza certo che uno può dire e allora se sei europeo vai a svezia vai a finlandia e ma questo costa troppo se sei un italiano che viaggia a stoccolma tutto costa cinque volte di più quindi in russia non a mosca ma in russia in generale si può risparmiare cioè praticamente gli italiani sono tirchi beh non direi ma ma se si risparmia si risparmia ma che mondo triste Anton a me va bene quindi cioè secondo te per questo sono popolari perché c'è tipo gli costa poco venirsi a fare la storia in russia mentre gli costerebbe di più farsi la storia a stoccolma e poi si sa che per la maggior parte i russi non sono non sono le russe sono ossessionati dall'occidente perché anche i anche i patrioti anche i putiniani sognano quando nessuno li vede di ottenere la cittadinanza britannica avevamo quest'idea di fare un video sulle numerose marche russe che però hanno dei nomi stranieri perché per il russo medio c'è più fico comprarsi una cosa straniera e quindi diciamo che se questa marca ha un nome italiano anche se è prodotta in russia o in cina tanto nessuno va a vedere però no fa fico no che non so se una marca di vestiti si chiama gabriella fa più fico che se si chiama svitlana purtroppo è così a me sembra tanto una una cagata scusatemi perché io cioè se una cosa mi piace me la compro pure si chiama svitlana per me fa anche esotico vabbè perché io sono malata per la russia anche se la russia ha tanti difetti però sì insomma così è va bene ok domanda tua per me cioè vabbè mi ha dato una risposta molto triste pensavo che mi rispondesse qualcosa di intelligente qual è la differenza che si vede di più fra gli uomini italiani che tu hai visto e gli uomini russi che con cui hai parlato con cui hai avuto qualche relazione it's a good podcast isn't it oh my god i feel so embarrassed it's just sadness everywhere devo dire una cosa devo dire una cosa devo dire una cosa devo dire una cosa perché tu non sarai d'accordo ma devo spezzare una lancia a favore degli uomini russi gli uomini russi sono più galanti degli italiani se vogliamo generalizzare possono essere galanti per i motivi sbagliati possono essere galanti e nascondere comunque poi delle dinamiche tossiche nella relazione dinamiche narcisiste o problemi di complessi di inferiorità e cose varie poi dopo affrontando una relazione renderti conto che sebbene io creda che non devi andare d'accordo su qualsiasi cosa con il tuo compagno e non devi avere tutte le stesse opinioni perché io e te abbiamo tante opinioni diverse rispetto a diverse cose però sulle cose importanti siamo uniti no? e io penso che questo valga più di qualsiasi altra cosa però ci sono delle cose sulle quali tu non puoi proprio passare cioè non lo so se tu fossi un maschilista incallito io avrei difficoltà a stare con te perché ho un determinato modo di vedere la vita che cioè se differiamo troppo da questo punto di vista non possiamo stare insieme ma te lo faccio volentieri cioè non sono femminista a sti livelli raga gli lavo anche le mutande ah boh lui pulisce il bagno cambia i pannolini cambia i pannolini ma lo stai dicendo come mi si facesse un favore cioè è figlia nostra cambia i pannolini ma perché i uomini russi anche se sono galanti di solito non lo fanno ah questo non lo so perché non ho cioè volevo dire non ho avuto figli con uomini russi ma invece ho avuto un figlio con te però generalmente voglio dire che sono più galanti cioè io scusami io dagli uomini italiani ho rarissimamente rarissimissimamente ricevuto dei fiori rarissimissimissimamente mi è capitato che qualcuno ritenesse indispensabile per farmi un omaggio un complimento aprirmi la porta anche il fatto di offrire offrire la cena offrire al bar non è una cosa che a me è successa spesso in italia e spesso quando è successa mi è capitato di avere la sensazione che la persona che offriva si aspettasse qualcosa in cambio dice ma con chi te la fai sidney però io dico quello che ho visto ok magari non è che se lo aspettavano per forza però comunque cioè era sottinteso l'uomo russo ti può offrire qualcosa anche se non necessariamente desidera avere una relazione romantica con te per il semplice fatto che tu appartieni al lo dico tra virgolette sesso debole anche se di debole non c'è niente però è un omaggio dire ah sei una ragazza e io voglio offrire per te come lo vedo io adesso dopo tanti anni come un modo di omaggiarti di farti un complimento è ovvio che poi non si vive solo di galanterie lo ripeto cioè uno deve andare d'accordo sulle cose principali però questo innanzitutto questa differenza è differenza positiva poi per quanto riguarda le differenze negative differenza negativa numero uno io in Russia in quanto italiana sono esotica oddio questa è positiva e negativa ok ci arrivo io in Russia sono esotica proprio come le ragazze russe sono esotiche in Italia cioè l'uomo russo vede la ragazza italiana è italiana e magari ci vuole provare non tanto perché gli interessi tu come persona ma perché è una sfida che io devo conquistare l'italiana perché poi c'è sto mito dell'Italia le attrici italiane dei film io mi ricordo quando io ho studiato a Pietroburgo la mia prima vacanza studio in Russia che addirittura una volta io cercavo una marshrutka un minibus e un tipo mi ha fatto salire mi ha spiegato tutta la strada si è fatto tutta una chiacchierata con me e poi mi fa comunque lei deve prendere un altro minibus non questo e dico e perché mi hai fatto salire? cioè mi hai trattenuto tutto sto tempo? e lui mi fa sto sorrisone e mi fa perché volevo tanto parlare con lei lei assomiglia tanto a Gina Lollobrigida un po' stufata che assomiglia a Gina Lollobrigida cioè a me mi fa tanto onore però a me non mi sembra che io sia all'altezza di Gina Lollobrigida ma comunque però per dirti no e io quel momento mi sono sentita per la prima volta nella mia vita mi sono sentita veramente bella perché in Italia quando io uscivo con i miei amici non appena arrivavano delle ragazze straniere o a noi ci lasciavano così ma poi soprattutto a me perché capì? poche tette e ci lasciavano ma è tristissima sta cosa io pensavo sempre ma vaffanculo cioè com'è? arriva la inglese la svedese e tu corri cioè e io non servo a niente quindi mi sentivo apprezzata questo è il lato positivo lato negativo c'è che però poi se diventa una sfida cioè io che sono un trofeo da conquistare cioè mi è capitato una volta di avere una brevissima brevissima storia con una persona che cioè dopo un po' mi dice ma io non potrei mai stare con te perché tu sei italiana e fino a mo' allora perché mi hai fatto la corte fiori, regali ma sei scemo perché lui questa frase mi disse io il mio business sta cominciando ad andare bene e io avrò bisogno di una donna sulla quale posso contare cioè ti rendi conto? e io pensavo e io lo guardavo e pensavo c'è vuoi a me? e lui mi fa no 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 io avrò bisogno di una persona sulla quale potrò contare e io tipo e quindi io che cosa sono? una no c'è quando la tua autostima non si è ancora ben formata tu ci rimani male per queste cose perché pensi ma su di me non si può contare cioè io come donna non valgo un tubo su di me non si può contare perché? perché io sono indipendente lavoro, viaggio a lui non piaceva questo no? quindi l'idea che mi sono fatta è che per molti mangi sempre gli spaghetti perché sei italiana sì però vuoi magari non so torni a casa e ti trovi che ti ho preparato una sorpresina sexy no cioè voglio dire vabbè io in quel momento poi dopo anche parlando con altre donne mi sono fatta questa idea che per l'uomo russo la donna sì lascia stare che poi le donne russe rispetto alle donne italiane nello scorso secolo hanno avuto meno bisogno di femminismo che di noi perché loro tutte studiavano tutte lavoravano non hanno dovuto conquistarsi la libertà di lavorare perché lavorare era un obbligo per tutti mentre magari per molte donne italiane no? io vedo pure le nostre mamme le nostre nonne si dovevano conquistare spesso la libertà di lavorare alla pari del marito cosa che non hanno avuto le donne russe però ho l'impressione che dopo la caduta dell'unione sovietica ci sia una sorta di ritorno indietro per cui molti uomini hanno sta pretesa che no cioè tu sei brava sei intelligente puoi essere pure laureata aver avuto una carriera però mo ti sei sposata e la priorità sono le mie mutande sporche cioè che per l'amor di dio ritengo comunque che la famiglia sia una priorità però voglio dire tu non mi chiederesti di rinunciare di rinunciare a chi sono io per essere tua moglie capisci che voglio dire dopo il matrimonio ho notato che per molte donne russe con cui ho parlato per lavoro per amicizia ho notato che per loro lo scopo del matrimonio sarebbe di far niente che l'uomo deve fare tutto deve la cosa più importante è il denaro perché l'uomo deve fare tutto deve lavorare deve mantenere la famiglia deve si deve provvedere i soldi però loro la donna invece non fa niente se a casa con i figli cresce i figli cucina pulizia la casa linda molte donne neanche vogliono i figli ma certo che in Rublyovka in questo quartiere dove siamo andati una volta e dove ho lavorato abbiamo fatto un video si si certo guardatelo ecco quindi si ho notato che questi uomini straricchi hanno una specie di di contratto con quelle donne e dicono va bene io ti do i soldi puoi usare i miei soldi se non mi mettono in carcere tu invece mi dai dei figli e allora molte donne che abitano in Rublyovka sono non ne sono d'accordo poi comunque ci sono delle delle tate sì e i genitori non si occupano neanche dei loro figli tristissima sì sì che è una cosa triste e io ho lavorato con quei figli e sì questa cosa fa proprio schifo cosa sarà di quei figli secondo me è un incubo perché sono un incubo adesso e poi quando avranno 18-20 anni chissà io poi ho ci ho pensato ho analizzato e io perché mi sono sposato io cosa cerco in un matrimonio ho notato che per me stesso è più facile lavorare sul futuro insieme guadagnare guadagnare non è è sempre molto difficile abbiamo un problema con questo sì ma come il resto del mondo la maggior parte sì sì tranne 0.0001% della popolazione per il resto del mondo per tutti noi guadagnare è sempre difficile e quindi avendo analizzato il mio passato ma anche il mio presente adesso credo che è molto più facile lavorare insieme e per quel che riguarda il matrimonio è importante trovare una persona con cui ci sono degli interessi in comune con cui puoi costruire il futuro e poi i soldi le case le macchine il benessere economico e tutte quelle cose che che ci servono arriveranno dopo anche se in qualche modo posso capire quelle donne che sempre quelle donne russe che sempre cercano i soldi dai uomini secondo me il sesso neanche le interessa molto posso dire a questo proposito perché mi sono venute in mente tre cose tra cui una domanda a proposito del sesso che non interessa molto però prima volevo domandarti com'è non interessa molto il sesso perché alla fine mi sembra di capire che cioè questa cosa no per me contraddice uno stereotipo che che esiste sulla donna russa che oltre a essere mediamente più bella delle donne di altri paesi ma evidentemente anche più capace a letto lo metto tra virgolette perché non penso che si sia capaci a letto perché allora non si spiega perché gli uomini italiani vogliono le russe perché l'uomo italiano è per antonomasia focoso e creativo e no come funziona a dirti la verità non saprei dirlo da dove viene questo mito magari c'era un po' della verità nel passato oggi no almeno per quel che riguarda le donne della mia generazione dei millennial che questo non è vero forse la ragione è sempre lo stress perché tutti lavorano perché dal mattino fino alla notte siamo sempre negli uffici quindi non non resta tempo per per fare altre cose per conoscere energia sì energia per conoscere altre persone poi se 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 non dormi abbastanza per un largo periodo di tempo poi si fa sapere questa cosa che sta succedendo a me adesso perché io per ultimo anno non ho mai dormito abbastanza pochissime energie per fare altre cose sì sì vabbè non dico solo cose intime ho pochissime energie per fare qualunque cosa vabbè però quando tu dici che le donne russe non piace il sesso cioè non penso che tu ti riferisca al fatto che sono stressate per lavoro e perciò non piace il sesso no questo può essere una delle ragioni sì ma non pensi che ci possa essere una ragione socio-culturale psicologica per cui queste donne il sesso non piace cosa vuol dire socio-culturale non so neanche cosa vuol dire questa parola beh per esempio io una volta mi ricordo che ci stavo molto male perché la persona con cui stavo secondo me non mi abbracciava abbastanza cioè non era abbastanza disposta a manifestazioni di affetto fisiche cosa che per me è molto importante cioè io ho bisogno del contatto fisico e mi ricordo che un medico mi spiegò che in realtà è un problema che si riscontra molto in Russia perché le madri cioè a cavallo della fine dell'unione sovietica erano sempre impegnate con il lavoro molte madri lasciavano i loro figli ai nonni o ai nidi così e quindi molti bambini sono cresciuti con una carenza di abbracci e di conseguenza non hanno sviluppato una consapevolezza sufficiente del proprio corpo di come funziona di come il proprio corpo può ricevere piacere perché quando si parla di piacere fisico non parliamo solo dell'atto sessuale in sé ma anche di tutto quello che c'è intorno e quindi diceva lui queste persone sono cresciute senza saperlo quindi è normale che il sesso diventa una cosa meccanica è un'altra domanda perché tu parlavi dicevi che tu per te in un matrimonio è importante fare le cose insieme e quindi ti volevo chiedere se prima di sposarti pensavi a cosa fosse a cosa fosse importante in una compagna per te e perché ti faccio questa domanda perché un'altra cosa che io ho notato come differenza tra gli italiani e i russi è che i russi ci pensano cioè io sono venuta dalla Russia e l'Italia io sono venuta dall'Italia alla Russia e in Italia i ragazzi della mia età e della mia generazione tra i 20 e i 30 anni la maggior parte non pensavano minimamente a sposarsi e questo influisce molto sulla qualità delle relazioni perché sono relazioni che nascono e poi vediamo come va questo influisce molto sulle relazioni e sulla qualità perché se tu cominci una relazione con l'idea che poi vediamo come va poi vediamo come va tu potrai sempre trovare di meglio potrai sempre trovare qualcosa che non soddisfa il tuo ego in quella relazione per cui quella relazione merita di finire invece io ho visto in Russia che ma questo già nel 2012 quando sono arrivata che ragazzi anche di 24 di 25 anni cercavano una ragazza già pensando a che tipo di partner stavano cercando certo c'era anche chi cercava la storiella così va bene però nel momento in cui si cercava una persona per una relazione io vedevo persone che cercavano una persona per una relazione con un'idea di che cosa stavano cercando e questo significa che persone di quella stessa generazione già pensavano al matrimonio e alla famiglia in una maniera in cui secondo me in Italia non ci si pensa più generalmente mi dicono molti ma in Italia non ci si può pensare alla famiglia prima dei 35 dei 40 anni ma anche dopo perché non si guadagna abbastanza perché prima ti devi comprare la casa perché prima ti devi aprire un mutuo perché ci vogliono prima determinate condizioni per poter fare dei figli eccetera eccetera però non pensate che in Russia questi qui che io incontravo che a 25 anni ma a 30 anni ma anche prima si erano sposati avessero tutte le condizioni che noi in Italia pensiamo che siano necessarie per farsi una famiglia no con quel poco che avevano si sposano si sono sposati hanno fatto dei figli e purtroppo viviamo in una generazione in cui è difficilissimo sbarcare il lunario e i russi questo lo sanno da prima di noi e per questo io ti facevo questa domanda tu ci pensavi prima di sposarti cioè tu avevi un programma di un piano no io mi voglio sposare con una persona che sia così 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 o è successo per caso no non avevi un piano però sapevi che il matrimonio per te significa fare le cose insieme sì ma ci ho pensato dopo cioè tu non eri alla ricerca no serio no io non ero alla ricerca e sapevo che per trovare un partner devo finire la ricerca il concetto stesso della ricerca mi pare molto triste se esiste una ricerca mi sa che uno deve pensare di cambiare qualche cosa nella loro vita e quindi riguardo quelle ventiquattrenni che parlano della famiglia io non so dove tu le hai trovati secondo me la statistica della popolazione della russia che che sta cadendo e il fatto che russia sta morendo molto rapidamente ci dice tutto quello che dobbiamo sapere perché io anche se anche se ho visto anche delle persone che all'età di 19 parlavano di fare una famiglia di fare dei figli ma anche adesso che hanno la stessa età di me sono sempre single ci sono delle persone diverse con varie idee no no ma dico che certo che non è non si dipende sì dipende perché sì le persone ci sono varie sì ci sono delle persone che hanno tre figli a 28 anni se se io non sbaglio riguardo quell'amico mio però e poi e poi ci sono anche 35 anni con nessuno ecco quindi eravamo noi we took our time to do that io perché ti dicevo il fatto della ricerca che tu dici che secondo te non bisogna cercare secondo me perché noi ci abbiamo messo tanto tempo che tu dici we took our time perché secondo me nel mio caso io ci ho messo tanto tempo perché c'erano dei meccanismi che non mi erano chiari cioè se tu non sai che cosa vuoi quello che tu vuoi non arriva non è che capita per caso e dici ah però ok ho capito che nella vita mi voglio sposare cioè io dovevo sapere che I made up your mind che mi era chiaro che era mia intenzione nella mia vita avere una famiglia e dei bambini e che non avevo dubbi che questo fosse quello che volevo e questa chiarezza faceva in modo che no ovviamente non che io cercassi con lanternino ma che ogni volta che incontrassi una persona che magari mi invitava a uscire io la inquadrassi in quel contesto cioè io con questa persona potrei realizzare questo o è meglio che non perda più il mio tempo cioè tu non pensavi proprio che nella tua vita volevi avere dei figli ma non è vero no no io ci pensavo ma io dicevo che la ricerca non ci deve essere proprio perché la vita che io ho capito dalla mia esperienza tu sei maschio non vai in meno pausa ma è vero eh sì mi suicido fra qualche anno ecco mi sarei suicidato ecco sì no mi suicido che moto vuoi suicidare sì uomini si suicidano fra le altre sì sì perché non trovano una compagna per varie ragioni beh insomma io dicevo la vita e le persone non è come comprare una chitarra ad esempio so I want this pickup I want this bridge I want this neck I want this fretboard so then I just kind of look into the list of the specs and yeah that's the one that I want to buy con le persone così non funziona ma è ovvio perché sì per me la cosa più importante come io ho già detto è trovare qualcuno con cui potrei avere degli interessi in comune ma questo è già un tipo di ricerca perché tu hai un criterio tu non vuoi tu se vedi una ragazza che non aveva delle cose in comune con te già capivi che questo è un criterio di ricerca non è la ricerca con l'anternino ma io ma io dico no neanche più o meno io dico che io non facevo nessuna ricerca non c'era non c'era no avevo paura ma c'era qualcosa nel mio cervello che mi diceva di stare tranquillo no ti dico la verità non facevo nessuna ricerca perché io ma con io venivano da me mi invitavano a uscire e io dicevo sì no oppure sì vediamo io stavo su su Tinder quattro anni quattro anni sono stato su Tinder un literano un literano sì l'ho scaricato nel 2016 e nel 2020 l'ho cancellato hai fatto bene sì perché non ti ho detto no Tinder non è basta così Tinder non è un posto dove trovare io sei sempre fatto del criterio di ricerca c'era sto psicologo al quale io mi ero iscritta e lui diceva fa quello che ami e troverai chi ti ama ecco sì secondo te c'è uno scopo di un matrimonio o non c'è ma mi domandi a me come italiana per capire qual è l'idea generale delle italiane o come a me Sidney come a una persona cioè tu sei atipico cioè sei un russo che sei sposata con un'italiana sì senza neanche averne lo scopo di di cercare una straniere come come fanno molti russi tu mi dicevi specificamente per trovare una persona straniere per sposarsi poi finalmente lasciare alla Russia scusami che io poi non ti rispondo subito alla domanda tu mi dicevi che tu hai capito che non avresti mai potuto sposare una russa cioè dopo aver sposato me dici che tu potevi solo stare con una straniere beh questo questo è l'analisi che ho fatto già dopo il matrimonio perché prima non avevo avevo neanche uno scopo di sposare una straniera oppure una russa e sì sì pensavo solo che forse qualche giorno troverò una persona con cui avrò degli interessi in comune poi dopo poi dopo vediamo che può essere una straniere può essere una russa solo che stavo aperto al mondo e io voglio dire una cosa adesso una cosa lo scopo del matrimonio per me è quasi una cosa diciamo così religiosa se non religiosa almeno quantomeno mistica io ritengo che il mio sposo sia la persona vicino alla quale io riesco a comprendere meglio il senso della vita a prepararmi per il fatto che non ci sarò più quindi per me sposarmi ha significato in qualche modo mettere un punto sulla questione che io non sono eterna e non sono invincibile avere accanto una persona che me lo ricorda ogni santo giorno paradossalmente vicino alla quale io posso avere dei piccoli assaggi di quell'eternità dalla quale vengo perché dovevo essere cioè se crediamo in qualcosa allora ci dobbiamo domandare non solo dove andremo quando finiremo ma dove eravamo prima di esserci io vicino al mio sposo nella quotidianità nelle cose più banali posso avere un assaggio di io spesso lo dico Anton dice che sono esagerata un assaggio di paradiso e e lo scopo del matrimonio oltre che di portare insieme il nostro contributo alla società non più da soli come individui separati ma come una squadra è proprio quello di guardare all'eterno insieme dopo aver avuto un figlio con mio marito io sono diventata ancora più credente perché mi sembra di avere un miracolo davanti agli occhi tutti i giorni è una cosa che mi spinge a essere una persona migliore e questo è lo scopo del matrimonio per me per te qual è lo scopo del matrimonio? di mantenere una famiglia parlando della religione io avendo lavorato questo è un messaggio ai putiniani ultimamente ho lavorato nel cuore del regime putiniano e vedendo tutta quella gente che esiste grazie a questo regime di parlando solo di scopare per soldi che sono gente educata sì gente piuttosto ricca ascoltando tutte quelle conversazioni tutte queste cose mi fanno venire la voglia di diventare un estremista religioso l'ultima domanda che io ti volevo fare visto che all'inizio noi volevamo parlare di relazioni tra Italia e Russia tu in che cosa ti senti diverso dall'uomo russo tipico essendo finito a sposare una straniera direi che per me l'occidente è sempre stato molto più vicino che i valori della gente con cui sono cresciuto perché per me è sempre stato molto più interessante viaggiare io non ho mai pensato che quell'ambiente in cui sono cresciuto è più importante è più valoroso di quello dell'occidente e del resto del mondo io non sono mai non ho mai avuto la voglia di amalgamarmi con questo ambiente fino al punto di essere parte di questo fango e di mai poter scapparlo e poi parlando dei uomini anche molti uomini della mia generazione fra i russi che non vogliono cambiare niente nel paese non vogliono vedere come come vive il resto del mondo credono che l'uomo non deve fare delle cose basiche che ad esempio che faccio io ad esempio per me cambiare un pannolino va bene così è mia figlia faccio tutto per lei e per loro è una cosa non sì non troppo mascolina perché si sentono un po' sì molti di loro sono closeted homosexuals solo uomini non non si sentono troppo sicuri se cambiano un pannolino ai loro figli che non è una cosa un po' femminile non mi fa troppo gay sì la lavatrice è gay 100% la lavatrice è gay sì certo certo cioè la lavatrice è gay ma li lavano i panni non è che li lavi tu quindi comunque è gay che è la lavatrice mica tu che c'è vabbè però io dico io vengono tutti fatti con arcobaleni secondo secondo te secondo te e questo può essere uno dei motivi per cui tante donne russe preferirebbero stare con uno straniero piuttosto che con un russo secondo me sì secondo me sì perché tutte tutte quelle ragioni sono sono stupide secondo me e poi questa sì questa insicurezza sono omosessuale se sono omosessuale non se devo provarlo o no dai moltissimi uomini russi è un po' è un po' faticante perché le donne secondo me sono sì un dono di dire se un uomo è gay o no ah well they might be wrong sometimes but well yeah ok I do I do I do I do have some sort of they have they have a much better ratio of guessing who's gay and who's not I do I do have sort of a radar but I'm not sure I was always gaydar quindi non vogliono sposare gli italiani soltanto perché devono andare via non so quanti tra voi che avete cominciato a seguirci siete gay appartenete a coppie miste insomma o siete italiani sposati con russe o russe sposate con italiani vabbè insomma in tutte le combinazioni possibili come vivete voi in una coppia mista e quali caratteristiche stereotipate dell'italiano e dell'italiana insomma corrispondono più o meno a realtà e tutte queste vorrei dire una parolaccia tutte queste sciocchezze qui che stavo per dire non si può dire puoi dire sciocchezze anche se stavi per dire coppie miste scriveteci se c'erano delle differenze culturali che che avevate dovuto superare o fateci sapere se c'era qualche scopo di di scappare la vostra cultura e di unirsi a un'altra iscrivetevi a questo canale accendete le notifiche ciao ciao ciao